e ciao tesori buongiorno ciao ragazzi ciao Lollina grazie allora ragazzi qui oggi abbiamo un po' di letterine dell'evento di Zomarino ragazzi vi devo dire grazie perché siete stati meravigliosi sono troppo contenta presto vedrete delle immagini dell'evento vedrete un vlog per adesso vi faccio vedere qualcuna delle letterine siete stati meravigliosi grazie a voi, grazie ai vostri genitori che vi hanno accompagnato avete sfidato l'inverno ma la giornata era bellissima, era calda si stava benissimo, lo spettacolo è stato carinissimo mi sono divertita un sacco e non sono stata ero in ansia al giorno prima ma al giorno dell'evento stavo veramente troppo bene quindi sono veramente contenta, grazie è bellissimo avervi allora vi dico prima di cominciare ragazzi subito subito che qui sotto non troverete i commenti da scrivere perché oggi è entrata in vigore la legge coppa e dovete stare tranquilli, non vi dovete preoccupare i video ci saranno lo stesso e quelli disegnati per bambini quindi le letterine, le storie tutto quello dove ci sono i giocattoli non avranno i commenti state tranquilli noi i commenti eccoli ce li abbiamo qui c'è la casella postale quindi quando volete scrivere una letterina casella postale 270 a Pomezia mettete Barbara D'Alessandro e mi mandate una letterina lo sapete io le leggo tutte quindi non vi preoccupate altrimenti su Instagram e su TikTok Babuit potete scrivere i commenti e vi rispondiamo anzi molto probabilmente sapete che farò i commenti ai video o qualcosa saluto qualcosa da Instagram ve li porterò anche vi nominerò anche su YouTube quindi non vi preoccupate non siate tristi non sta succedendo siate calmi esatto non sta succedendo niente di drastico insomma tutto procederà come prima per le notifiche voi passate nel canale e troverete il video nuovo tutti i giorni troverete un video nuovo quindi quando arrivate lo troverete non vi preoccupate se volete avere le notifiche potete iscrivervi al nostro canale Telegram che è sempre Babuit se non avete il telefono lo fate fare ai vostri genitori io manderò semplicemente la notifica ai video senza spam e quella non sarà mai una chat quindi non ci sarà mai un'interazione perché togliere i commenti ragazzi è fatto per la vostra sicurezza non è fatto per dar fastidio a noi è una cosa che viene a vostro vantaggio quindi anche nel mio canale Telegram non ci saranno i commenti ma io vi potrò dire ragazzi è uscito il video nuovo correte a vederlo o vi metterò qualche contenuto in più basta parlare e apri giusto Lollina allora guardate che bello ecco questo è il vostro amore qui ci siamo noi nel nostro disegnino della grafica eravate tanti eravate così carini così belli allora ciao Barbara e la rassono Emma ho 11 anni vi seguo sempre ogni volta che guardo i vostri video mi riempio di gioia le mie lol preferite sono Baby in the Wood Twang e Unicorn posso essere saluta da Lollina? sì da Alice Alice dice ma ciao e stella stella è rimasta nella borsa di Zomarin ma è qua l'hai tirata fuori? dove è? eccomi ecco l'arrivata sì dove sono? ciao dove è il cibo? no non c'è il cibo basta perché non c'è il cibo? perché non ci deve essere il cibo? mettiti qui saluta Emma ciao Emma all right per la prima volta e qui c'è anche la classifica Barbara e Lara me contro te GBR grazie sempre un onore per me lo sapete top poi qui c'è lettera ai regali da Marta Marta sì 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 me la ricordo Marta allora mi chiamo Marta otto anni fra due mesi nove a parte voi seguo su YouTube me contro te ed insieme Vito la coppia che scoppia Ali Crafty e Glitter e questo è il selfie con Babu grazie mille si è fatta piccolina piccolina andiamo avanti guardate un po' questo che bello questo volevo far troppo vedere è stupendo è un cartellone tra l'altro ce l'aveva la Beatrice ce l'aveva in mano c'è scritto qua Beatrice per tutto l'evento l'ha tenuto aperto era bellissimo grazie è stupendo e noi l'abbiamo visto durante lo spettacolo esatto sì si vedeva dal palco si vedeva troppo bene vi qua c'è scritto pure aspetta vi adoro che carine che siete dopo questo ci ne apriamo quale apriamo? questo o questo per primo? questo questo ah questo? è di Asia è quello di Asia? sì questo ci siamo già spoilerati perché l'ho detto basta adesso voglio aprire questo l'ha aperto ragazzi questo è bellissimo un nome bello di più cioè vi fa capire l'amore cioè è la cosa no allora questa bambina ha detto sembra una cosa comprata ma l'ho fatto io si è fatta tagliare il legno dal nonno e ci ha creato questo ora ditemi se non è non c'è amore in questa cosa io questo me lo metto sulla scriva sì questo lo mettiamo qui cioè lei si è costruita il nostro porta penne col fiorellino di babù ho fatto il logo dentro l'ha sfumato è stupendo fighissimo è fighissimo è stupendo si è stata non brava di più e qua c'è la sua letterina ok allora ciao Barbara e Lara sono Asia forse mi ricorderete sì tesoro perché sei venuta tantissimi ho tantissimi vostri fotografi se hai dieci anni e abito abita qui vicino a lei questa volta io sono fatto un regalo anche se non è uguale al vostro fiore no ma è identico è spiccicato poi ha scritto è bellissimo domande Lara che lavoro vuoi fare da grande questo ci devo ancora pensare quando sarai grande deciderai quello che vuoi sì ci devo pensare solo la youtuber non è sicuro perché succede di tutto ormai a noi però insomma magari aiuti me continuiamo insieme a lavorare o fai quello che vuoi vabbè ci devo pensare è piccola per decidere ragazzi ancora non so io cosa voglio fare da grande figuriamoci lei Barbara avresti mai immaginato di avere così tanti iscritti no mai nella maniera più assoluta no assolutamente no e poi qui Barbara l'arasia modi per ricordarmi ho fatto due tiktok con Lara è vero sei in qualche tiktok dentro l'evento di Rocco Toys e infatti l'ha scritto l'evento di Rocco Toys sono stata l'ultima ad andare via tesoro cucciolina e qui ci sono degli altri giardini e ci apriamo saluta stella elice ciao e ci apriamo quest'altro no questo questo pacchettino è di Sara allora quest'altro pure è una ormai siete diventati una famiglia cioè ormai vi conosco vi riconosco conosco le vostre mamme ormai è tutto è troppo bella sta cosa e quando siamo tornati dall'evento ho fatto una foto nell'ascensore l'ho messa su su instagram ho fatto una foto nell'ascensore in cui ero più tipo piena di pacchi buste bustine stavo scoppiando di pacchettini e mi è arrivata la foto e sono rimessa ed evidenziato il pacchettino dalla mamma che ha detto la felicità in una foto perché appunto Sara l'ha vista e era contenta che io avessi questa insomma tesoro ma assolutamente da Sara e Federica che ti saluta e Federica ti saluta ok allora ciao Federica e apriamocelo ecco brava meno parole allora eh ma Sara vedo dello scotch eh allora vi dico pure quest'altra cosa che l'evento era a Zamarin e Sara è Ligure quindi lei arriva dalla Liguria ragazzi mi rendete conto cioè io sono veramente onorata del fatto che vi giriate l'Italia per noi è troppo bello allora Merry Christmas a proposito di Liguria mi sono appena ricordata che io per compito di domani ho un'interrogazione sulla Liguria ah è vero devi studiare non devi fare brutte figure a proposito c'era un video quello in cui abbiamo fatto le acconciature di Natale in cui tu avevi la magliettina quella con le paillettes che ti ha regalato lei a un altro evento quindi vedete voi tornate è bellissima questa oh mamma allora biglietti di omaggio per Cinecittà wow poi qui che sono i frighissimi no vabbè allora questo si sono quelli ma tu questo non ce l'hai mi manca questo il panneggio mamma mia che cosa bella l'ho rivolgciuto l'ho rivolgciuto sì sono quelli della coppa mi mancano aspetta questo qua mi manca perché io è vero è diverso un'amica che me li ha fatti scoprire una settimana prima che finissero è una lunga storia no no ma diciamo la storia dei frighissimi allora questa mia amica ce l'aveva e lei le usava per le lol io un giorno gli ho chiesto dove l'hai comprati che sono così carini e lei mi ha detto alla coppa se spendevi 10 euro te ne davano uno era tipo 2-3 stati fa mi sa che era ma l'abbiamo scoperto quando si stava per finire cioè mancavano pochissimi giorni e quindi dicevo nonno andiamo a fare la spesa e lei era una furbacchiona uscire un altro c'è pure l'olio e lei era una furbacchiona pure gli omogenizzati il siletersivo il siletersivo ma ce l'ha messi tutti la crema la crema e lei era una furbacchiona perché ci ha fatto fare la spesa a noi poi arrivava la nonna per sira per sira arrivava la nonna e faceva nonna devi fare la spesa e si faceva portare la coppa poi arrivava l'altra nonna grazie questo vedete come mi capiscono questo è per le mie rughe che sono queste bustine e quindi abbiamo avuto roba della coppa per mesi ah questo è per panchino guarda un po' che c'è scritto no supermercato no e passiamo alla sua letterina ciao sono Sara 10 anni ho mio zio vicino a te ecco perché lei gira l'Italia perché spesso vado allo zio quando è a Roma allora ho 79 lol io sono la bambina che era venuta a vederti quando nonno stava male si cucciolina me lo ricordo vedo i tuoi video mi diverto un sacco e allargo no che cosa bella che hai scritto allargo la fantasia allargo la mia fantasia vi voglio bene ve lo vorrò per sempre grazie per farmi credere nei sogni grazie perché voi mi avete fatto conoscere le lol no che cosa bella che siete ecco ragazzi se questo è importante lasciate l'odio da parte tenetevi solo le cose belle la gente che vi vuole male la gente che non sa provare amore lasciatela scordatevi a pensare solo alle persone che veramente meritano di essere considerate poi qui dietro c'è questa cosa ve la dico per sempre vale per sempre l più s l lara più sara più barbara tvv l più s tvv sara più v tvv le mie lol preferite sono nellina e alice per stella il cibo e poi qui c'è il selfie con babù con i pantaloni a zampa i miei preferiti anche a me piacciono i pantaloni a zampa avevo un paio di jeans a zampa che non mi entreranno neanche se mi ammazzo perché ero magra ma lo sono le domande per l'ara e barbara quanti anni avete cascato uno frighissimo io ne ho 41 e io ne ho 10 e questo maggio pure mamma a maggio io ne faccio 11 e mamma ne fa 42 no sempre 41 dopo 41 si ripetono spegni sto coso ok qual è il tuo cibo preferito? sushi è proprio in stereo la risposta sushi 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 colore preferito? nero cosa preferita? cosa preferita? zia amore che bella cosa che hai detto la mia famiglia gioco preferito? la mia famiglia è zia gioco preferito? cioè ma da tau gioco preferito? zia l'ho preferita lolina sicuramente ok tesorini bellissimi questo era il primo dei video di zomarini ma ce ne saranno altri perché di pacchettini ne ho tantissimi ah qui ci sono due macchinine due cutie car non so da che pacchettino da che letterina venivano le avevo messe nella borsa credo da una di queste ma ne sono sicura e sono troppo belle ne ci mancavano le hanno scritto perle lil e sono bellissime grazie perché mi sa le altre due dove sono finite da qualche parte ce ne abbiamo tesori grazie per aver visto questo video grazie per questa iniezione di fiducia di così io non vi farò mai pesare le situazioni di youtube del lavoro delle cose voi siete un momento siete una piccola oasi di tranquillità quindi lo scrivete e lo dite molto spesso che con i nostri video voi staccate un po' la spina e vi rilassate e siete per quei dieci minuti meno tristi ecco vale pure per noi siete una medicina ragazzi iscrivetevi al canale rimanete con noi continuate a frequentare il canale perché troverete sempre i contenuti nuovi anche se non vi arrivano le notifiche ricordatevi di noi un bacio a tutti quanti ciao 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 ciao